ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video e già i vostri video questi simpatici contenitori di contenuti contenitore di contenuto che fate voi però voi vi fate il vostro bel videino con dentro tutti i vostri orologi e poi lo mandate qua e lo guardiamo tutti tutto il mondo lo guarda tutto il mondo commenta ai vostri orologi il vostro modo di esporre che a volte può essere un pochino sottotono altre volte invece bello spigliato allegro e baldanzoso ora no detto questo come partecipare lo sapete in orizzontale sette minuti non più di sette minuti siate parchi nell'enunciare i vostri possessi e poi non me lo mandate insomma vedete qua sotto come fare no ora vi voglio ricordare che domenica 12 maggio ci sarà il quinto watch meeting il quinto raduno del canale ci incontreremo tutti assieme nei pressi della gioielleria pasquale domenici di via reggio nella zona pedonale antistante poi sarà possibile naturalmente entrare ci saranno anche dei banchetti con dei vari marchi di orologi che presentano i propri pezzi oppure delle curiosità no come negli anni scorsi quindi sarà una kermess aperta a tutti domenica 12 maggio alle ore 15 mi raccomando via reggio vi aspetto ora detto questo vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo simpatico omega c master professional il diver 300 con il suo bel calibrino con scappamento quassiale l'ho tirato fuori perché insomma il sole incomincia a fare capolino ed estate questo sarà uno di quelli che si indosserà con maggiore frequenza pesa è un orologio che pesa di presenza però va bene bel dai verozzo con la valvola per l'espulsione dell'elio quando sei no al mare al bar a bere la birra l'elio si formano sulla schiuma e con questa valvolina qua lo espelle tutto ci salva da questa l'elio perché meglio cattivo ora via dai bando ai discorsi primo video eh barra spaziatrice pronta a ricevere i colpi dell'indice e l'indice che glieli dà e tutti insieme parapà via ciao davide ciao siamo michela e da rovigo michela e moreno moreno non si è sentito bene ciao michela fa sempre piacere sentire una voce femminile no sempre piacere qua c'è messo il disco dei degli 883 nord sud ovest test un classico io conosco max spezzali l'ho conosciuto siamo ci siamo anche frequentati qualche sera qualche salata assieme l'abbiamo passata a chiacchierare persona simpatica 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 perché c'è la moto 883 c'è la moto lui e ce l'ho anch'io ce l'avevo quindi avevamo questa passione in comune oggi ti facciamo vedere alcuni dei tantissimi orologi di moreno vai moreno anche miei si è vero c'è stato suggerimento il primo orologio che ti facciamo vedere è un casio io non capisco niente di orologi è un casio è a batteria a batteria però è indistruttibile e è un orologio del papà di moreno va bene il secondo orologio che ti facciamo vedere ma quello è un casio e no aspetta questo è un citizen è un citizen a batteria anche questo è indistruttibile anche questo era del papà di moreno che usava quando lavorava sembra molto bello indistruttibile sembra l'interrogazione di un bambino sai pro master dalla regia mi dicono è un citizen citizen è indistruttibile anche questo quando dico indistruttibile vabbè e dico tutto certo molto molto bello è blu e non è nero e neanche blanco brava bello brava col colore ci sei fare che questi orologi fanno il suo fanno il suo bravo il loro passiamo ai regali vediamo il primo orologio che ho regalato a moreno è questo orologio in legno farei in questo momento certo ma prima non più una mazza adesso capisco una mazza lo stesso comunque è un orologio in legno a batteria poi arriva il momento del casio g shock ah beh allora cambia tutto solare energia solare quindi ogni tanto l'ottobre abbiamo attaccato alla rete della casa per caricarlo come la rete e nulla da dire insomma indistruttibile fa il suo l'ultimo orologio che ho regalato a moreno l'ho preso per i numeri come si dice arabi sì giusto vero arabi mi piaceva la forma di questi numeri cicciotta e quindi l'ho regalato moreno e lui ha cambiato il cinturino e ha messo un cinturino che valorizza molto questo orologio molto 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 bello se passiamo ora a due sector due bene ci volevano acquistati da moreno a montemerlo vicino dove lavora male che me l'hai detto sui colli uganei e li ha acquistati per la cresima di il nostro nipote samuele volevamo un orologio uguale moreno mi ha accontentato sono due orologi sector a batteria ora un orologio che arriva direttamente dalla da una cantina di una casa di solegino è la casa dei nonni del collega di moreno è un orologio a carica manuale tipo russo credo che sia il nonno del collega di moreno l'ha regalato moreno perché sa che gli piacciono bene e fissato proprio questo orologio l'abbiamo trovato a napoli da un venditore che aveva un orologio per polso l'abbiamo trovato a napoli e dov'è che l'abbiamo trovato nei quartieri spagnoli siamo andati in cerca dei murali se abbiamo trovato sto orologio perché ogni volta tocca entrare dentro i negozi di orologi è un orologio a carica manuale molto molto bello però il cinturino è da cambiare secondo me io preferirei rosso o rosso blu adesso è il momento del mio orologio un orologio che ho sempre indossato finché non ho conosciuto moreno che ha incominciato a regalare l'orologio e quindi mi tocca cambiarlo questo orologio me l'hanno regalato per la laurea triennale le mie cugine i miei cucini è un orologio a batteria braille molto bello ma io sono una cialtrona e quindi ho anche rovinato il vetrino moreno ha detto che me lo ha giusta ora arrivano le chicche quelli che mi piacciono di più allora questo orologio qua è saccata carica manuale questo orologio l'abbiamo trovato a piazzola sul brenta al mercatino dell'antiquariato che è molto molto bello molto molto bello si ritiene l'ultima domenica del mese e si abbiamo girato tutto il mercatino ma siamo ritornati alla prima banca abbiamo preso questo orologio elegante io dico che non so è veramente è giapponese del 1970 60 giapponese l'abbiamo trovato in un mercatino dell'antiquariato a ferrara la ragazza ce l'ha venduto per pochi spiccioli perché ha detto che non funzionava bisognava cambiare la batteria ma e questo orologio è a carica manuale povera e quindi non era ben ben informata un po come me solo che lei l'ha venduto e va bene io avrei chiesto moreno e ha sistemato tutto e questo del 1970 e passa i primi del 70 72 si ma non mi sembra che avete fatto un gran acchiappo e qua cioè proprio non capisco la casa che cos'è placata oppure che ottone che se che si è che è venuto fuori insomma le sfere come che bianche così ma che cosa e anche questo mi piace molto è molto bello 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 e moreno li indosso tutti un giorno uno giorno un altro mezzo giornata uno mezzo giornata l'altro ho capito nei prossimi video vi illustreremo questi altri orologi più altri due che sono in assistenza noi ve li facciamo vedere sono tutti lungini molto 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 bello molto molto uno anche mio e poi ci sono anche questi altri orologi ciao davide ti salutiamo e diciamo rock and love 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 grazie vedo qua giù quest'ultima scatola qua ci hai messo le etichette come ho messo io mi hai copiato come io ho messo le etichette sulla mia scatola dei long jean vintage che ci hai messo le etichette su quelli lì bravo copione vedi che serve l'ispirazione per qualche idea no tra l'altro la scatola guarda la mia di quelle marroni con i cuscini morbidi bravo sugli orologi io stenderei un velo pietoso quelli che c'è presentato perché veramente non si sa dove andare a battere io ero rimasto affascinato dalla voce della signora della signorina non so chi sia che mi cullava no però gli orologi o anni sia chiaramente ti mi ha fatto vedere una piccola parte perché poi la ho visto che c'erano quelli che contano e c'erano i pezzi grossi ce l'avevi tutti dalle altre parti belli belli assai quindi io ti rimanderei a settembre perché devo farlo devo farlo cioè il regolamento mi impone di rimandarti a settembre perché non si potevano vedere quegli orologi lì però lo so che non sei rimandato lo so ciao davide ciao alessandro dalla provincia di rosinone bravo e ti faccio vedere qualche mio orologio vai innanzitutto ti ringrazio per il tuo lavoro e soprattutto per il fatto che hai risvegliato in me una passione che era subita appunto la passione per gli orologi passione che iniziò quando ero molto piccolo ed io amante della tecnologia vedevo in questo orologio il non plus ultra un orologio non a batteria ma doppia batteria un tool watch e pieno di funzioni di tantissime cosine interessanti certo che dato che all'epoca facciamo la massima espressione tecnologica parliamo di una ventina da anni non una trentina da anni fa potevano essere questi oggettini ne ero veramente innamorato bravo questo diciamo al grandissimo pregio di aver fatto sognare un bambino nel senso che mi divertivo a settarlo mi piaceva per esempio con l'altimetro andare a vedere a settarlo al mare per quindi per poterlo rimettere sullo zero oppure quando vedevo quei cartelli sai delle città dove ti diceva l'altitudine di poter confrontare vedere il grafico che faceva insomma era veramente il non plus ultra per me agognato per tanto tempo quando una volta le cose te le facevano sudare e non erano immediate i miei genitori insomma ci misero un bel po' ma poi alla fine l'ebbi vinta bravo il secondo modello è questo ciofecone nautica che è l'orologio al quale sono affezionato perché è quello con il quale mi sono sposato mamma mia ma come fai a sposarti con un orologio così questo qua è l'orologio da divorzio te lo devi mettere quando divorzi che così spaventi spaventi la controparte perché dice mica c'è uno scudo al polso cos'è questo un uno strumento per offendere è capito un nautica guarda lì che che ho proprio delle tanti soldi ai miei suoceri e quindi insomma scelsi scelsi questo bravo poi da quest'estate ho preso questo pagani che se non altro ha avuto poi il compito diciamo così di svegliare ulteriormente la passione e di farmi capire che non era questo in effetti l'ho utilizzato solamente una volta ma adesso diciamo serve semplicemente per riempire la mia confezione di la scatola del tempo ma non serve primo acquisto consapevole fatto dopo la visione dei due video è questo Seiko presage automatico con questo quadrante che è veramente stupendo il suo sul tuo sul tuo canale da un un altro utente che lo aveva e rimasi folgorato proprio da questo da questo colore se il Seiko presage è proprio uno di quelli orologi con un quadrante particolare che è pur essendo economico cioè acchiappa subito la vista ce lo vedi così con questa questo quadrante a raggi così forse anche molto molto presenti perché potrebbero anche dar fastidio tanto presenti che sono però di sicuro colpisce no e siccome costano il giusto è uno degli orologi che vediamo anche più spesso qua sul canale perché un bello orologio fa la sua figura il presage in seguito e questo forse è uno degli orologi che diciamo mi dà più emozione tra virgolette questo lanco marchio che assolutamente non conoscevo questo è bello ho preso usato ovviamente parliamo di un oggetto di 70 anni fa sì perché degli anni 50 circa revisionato mezzo giro di carica e parte subito carica manuale veramente bellissimo questo quadrante color pergamena pergamena è veramente veramente stupendo un po rovinato ho dimenticato un orologio di una 15 anni fa al quale ne ho anche un altro nell'altro si è esaurito l'accumulatore lo dovrei far cambiare perché l'accumulatore è il cugino della batteria e la batteria è tua nemica e l'accumulatore tuo nemico lo vedi che c'è tutti i quadrantini morti li spenti perché ti abbandona anche lui la meccanica ti dà una mano la batteria e l'accumulatore dormono sul divano hai capito oggettivamente il costo non vale la spesa non vale la resa e questo qua adesso che in questo momento a scarico perché era tenuto in una parte buia buia proseguo con il penultimo acquisto che è questo tagoyer tagoyer quarzo del quale sinceramente sono innamorato mi piace tantissimo però penso che a breve lo lo venderò per passare e beh sono sono innamoratissimo bellissimo però a breve lo venderò hai detto tutto hai detto tutto ad un modello manuale vorrei prendere l'edizione quella fangio manuale però questo è veramente un un bello oggetto c'è poco da fare e poi il pezzo forte che non rimarrà in collezione per molto vai faccio vedere preso a dicembre usato cos'è cos'è ma l'ho preso con l'intento di regalarlo mio padre che fra pochi giorni fa il compleanno ed è questo spettacolare omega speed master legend il modello è 3 2 1 30 44 50 01 001 me lo sono scritto perché non l'avrei mai ricordato vabbè ora sto meglio movimento coassiale 33 13 e questo praticamente era da tempo che volevo fare un bel regalo mio padre pensavo a un rolex e quando ho scoperto che esisteva un omega che sinceramente incontra più i miei gusti che declina era declinato nella versione sportiva dedicata a schumacher in questa diciamo una serie capito ora no io gli altro del top ma cioè io non è che mi carabano tanto queste cose già non mi piace lo speed master racing no vedete il quadrante che a scacchi no in certi altri ci sono i sottocontatori tipo carbonio ma probabilmente sono scacchi anche quelli poi qualcosa c'è scritto c'è scritto tutte tutte le vittorie fatte da michael schumacher 7 7 titoli mondiali 94 95 2000 154 po di 91 vittorie 68 pole position e dove siamo e cos'è e cos'è un cartellone pubblicitario ma dove andiamo con questo orologio io non lo so non le sopporto queste cose qua a me mi vanno bene di orologi celebrativi di un acqua di un evento di una cosa di una persona di qualsiasi cosa di una gara quello che ti pare a te ma che non ci sia anche non diventi troppo scimmiottante non so nemmeno cosa dire sul fondello mi ci fai una bella un bel basso rilievo una bella rappresentazione grafica ne sono contento oppure sul quadrante mi ci metti un piccolissimo dettaglio che me lo fa differire dagli altri perché deve ricordare ok ma quando mi ci metti le scritte papali papali così esplicite come tutto il record che ha fatto michael schumacher è anche no di diversi orologi una decina circa questo è l'ultimo ed è quello dedicato diciamo alla vittoria finale dei sette titoli il suo movimento bellissimo e la cosa particolare è che la scala tachigrafica è stata sostituita con tutti quanti i record sette volte campione del mondo i podi le vittorie le pole position è veramente 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 stupendo per me che ecco appunto amo i orologi e amo la formula 1 anch'io è il non plus ultra e mi auguro che mio padre lo saprà apprezzare ma c'è veramente sì certo veramente un qualcosa di magico magico l'ho pagato veramente tanto perché so che tu non sei molto pro alla diciamo a spendere tanti soldi per orologi un pochetto vecchi qua parliamo di 5000 euro per un orologio di 20 anni fa ma in condizioni veramente immacolate con la sua scatola contro scatola insomma tutto garanzia eccetera eccetera l'ho preso su crono 24 da un rivenditore tedesco ed è stato veramente una soddisfazione poterlo poterlo acquistare scusa ma mi aveva ceduto il supporto del telefonino e niente volevo sapere ovviamente cosa ne pensi volevo ringraziarti ancora salutare tutti quanti amici della community e una piccola domanda ho letto ci avevo sentito grazie a te che questi movimenti automatici diciamo andrebbe bene a rimetterli con la data e con l'ora in un determinato in un determinato momento per evitare che vengono ingaggiati ulteriori ingranaggi eccetera quindi un consiglio un pochetto pratico per per mio padre quale quale può essere per quando diciamo ovviamente questo non sarà un orologio tutti i giorni sarebbe veramente un peccato e quale potrebbe essere per farglielo usare in diciamo così in tranquillità grazie ancora e buonasera da tutti buonasera da tutti a me questo orologio mi piace non me ne volere ma non mi piace poi un 5 mila euro per un orologio dei primi anni 2000 20 anni fa vabbè ci sta io ho preso anche l'acquaterra del 2003 però c'è una bella differenza perché ora ti vado a spiegare io ho preso l'acquaterra l'ho pagato una stupidata 2000 euro l'ho pagato 2000 euro dei primi anni 2000 però io l'ho preso l'ho portato a casa e ho chiamato il signor omega gli ho detto vieni a prendere l'orologio mettimelo come nuovo e poi riportamelo e loro sono venuti e tutti di corsa sono venuti a prendere l'orologino e hanno fatto la revisione l'hanno lucidato e me l'hanno riportato e da lì sono partito te ora questo orologio qua di vent'anni non hai fatto accenno non hai nemmeno non ti avessero passato per l'anticamera del cervelletto di dire ha bisogno di una revisione ma questo orologio qua ha bisogno di una revisione il problema della della data no quando cambiarla diventa secondario perché è capace che ti si sfonda al polso scherzo cioè probabilmente può andare avanti ancora ma vent'anni senza una lubrificazione una revisione no non ha senso no a meno che non ti abbia detto è stato revisionato ma non ci credo vengo lì un orologio che non vuole nessuno non l'ha comprato nessuno infatti te hai detto eh no scatola garanzia mai usato per forza non usa nessuno quell'orologio lì chi lo vuole e quindi non l'ha revisionato perché per lui il venditore è come nuovo no però in realtà sta fermo lì senza essere usato gli oli vanno a ramengo specie qua nel calibro coassiale no ma una bella cioè veramente il calibro coassiale è nato per non essere mai lubrificato poi in realtà gli attriti sono bassi ma la lubrificazione va fatta uguale lo stesso omega del film che ho preso io degli anni 2000 mi si era fermato è cioè mi si era fermato quando partiva funzionava io estraevo la corona si fermava giustamente la lancetta dei secondi rinserivo la corona per farlo partire non partiva più gli dava una scossetta partiva era secco dentro no è stato un cassaforte dai primi anni 2000 fino al 2022 23 quando l'ho preso era secco anche lì revisione in questo caso uguale ti consiglio quello poi il discorso della data va bene ci sono certi calibri che non che risentono del fatto del cambiamento della data se ti cambi la data con la corona intorno alla mezzanotte gli ingranaggi sono già ingaggiati e puoi creare dei danni ok su certi calibri per quelli moderni la maggior parte c'è una protezione una protezione che ti impedisce di andare a fare questo danno qua ora la protezione è come tutte le cose un sovrappiù nel senso che è va bene io guido tanto c'ho la cintura di sicurezza se quella volta la cintura di sicurezza non funziona batti la testa ugualmente quindi se quella volta non funziona la protezione per qualsiasi motivo rovini l'orologio quindi senza stare a fare distinzione tra calibri che hanno la protezione calibri che non hanno la protezione perché se no chi se lo ricorderebbe è buona norma non cambiare data con la corona tra esageriamo le 21 e le 3 di notte così non serve ricordarsi qual è ah sì questo calibro non ha problemi lo posso cambiare ah no questo forse no se uno non se lo ricorda poi cosa fa il danno quindi prendiamo la buona abitudine di mettere l'orologio a ore 6 che così sei o alle 6 di mattina o alle 6 di sera se fuori dal range cambi il datario il giorno quello che ti parla a te poi dopo 7 di nuovo l'orologio all'orario giusto e sei in pace con te stesso sei sicuro di non sbagliare no vai sembra di essermi alterato abbastanza prossimo video ciao davide sono Claudio da Padova e questo è il secondo video che ti mando e volevo aggiornarti sulla mia collezione qua ne vedo innanzitutto la prima volta che ti ho mandato il video ho messo di farti vedere i miei quarzi allora ti faccio vedere il primo questo citizen ecodrive cassa in titanio cassa in titanio un orologio che mi accompagna da circa 20 anni ha fatto due volte la revisione per la sostituzione dell'accumulatore per il resto funziona perfettamente accumulatore altro orologio che possego in collezione è questo sempre citizen ecodrive questo me l'ha regalato mio fratello un giorno sono andato a casa sua e mi dice guarda questo orologio non mi piace più vabbè poi te lo regalo e niente io a orologio donato non si guarda le lancette per cui no no qua si guardano guarda com'è brutto come fai a accettarlo lui non lo voleva più perché giustamente no e te cosa puoi fare io lo venderei 10 euro ce li fai sopra e poi magari ci vai a bere una birra in giro per dimenticarlo perché cioè è veramente brutto qui me lo sono portato a casa un bello orologio caso molto robusto un vetro molto spesso pensi che sia un buon diver da usare al mare ecco altro orologio che ho maltrattato e ne ha visto di cotto di cruda è questo questo è un orologio un caso che usavo per tenere i tempi quando facevi master di nuoto e ti dico fra botte nel bordo piscine cadute varie non mi hai mai abbandonato e attualmente la batteria ha due anni e mezzo e vedo che funziona perfettamente ulteriore orologio sempre al quarzo e no dai basta questo omega skywalker x 33 è un orologio che ha il suo fascino perché innanzitutto posseggo la serie prima del sempre speed master e ho voluto prendere la serie più recente in modo da fare il nonno e il nipote in collezione per la serie non sapere dove buttare soldi no si prende questo qua questo orologio ha questa caratteristica che tu la puoi mettere anche a riposo basta tirare la corona ecco se ce la faccio e lui automaticamente è un po' difficile qui guardi ecco qua lui automaticamente torna in funzione riposo e quale? blocco macchina ecco qua lui si spegne tutto e si mette in questa posizione qua e poi? questo orologio è omologato dall'ESA dall'ente spaziale europeo se guardi qua sotto eccolo qua ecco questo qua è omologato dall'ESA no? quindi diciamo che è idoneo è stato reso idoneo ai viaggi spaziali e c'è il vetro zaffero ok? quindi è omologato con il vetro zaffero quindi tornando al discorso che facevo tempo fa su un altro video non è che lo speedmaster l'hanno scelto per andare sulla luna perché c'è il vetro plexiglass perché se si spacca lo zaffero tutti i pezzettini volano e la gente respira e muore soffocata no? dicono anche queste cose qua l'hanno omologato il vetro zaffero è omologato punto prima di questo orologio lo usa Samantha Cristoforetti visto? per cui sono due orologi che sono andati sulla luna sulla luna qual'altro no? poi altro orologio che è andato nello spazio è questo questo è l'orologio che è la riedizione dell'orologio che è stata fatta nel 2012 ben vi ricordo che monta movimento 02 fatto dalla Brentling ed è la referenza AB0210 Brentling dietro al fondello c'è scritto la commemorazione dell'aurora set e mercuryset di Carpenter di questi orologi qua ne sono stati prodotti 1962 pezzi come l'anno che è stata fatta è stata mandata in orbita Carpenter Carpenter se l'aveva fatto fare con le 24 ore perché così riusciva a capire quando era giorno e quando era notte purtroppo l'orologio che lui indossava quando è andato in orbita nel momento dell'ammaraggio purtroppo è andato in acqua con l'orologio l'orologio si è rovinato e subito la Brentling ne ha consegnato un altro e quello che è andato effettivamente in orbita è dentro al museo della Brentling per cui ce l'hanno loro va bene poi mia moglie dice guarda fai vedere gli orologi a Davide e non fai vedere il mio allora ho detto bene dai dammi anche il tuo eccolo qua lei usa questo cassetto è un orologio che gli piace tantissimo fuori fuoco anche sportivo un orologio al quarzo l'ha voluto al quarzo perché tante volte lo lascia fermo nel cassetto anche a due o tre giorni e non vuole avere la briga di ricaricarlo ogni volta che se lo riprende in questo caso servono gli famosi orologi con 80 ore di riserva di carica con otto giorni tra noi e noi appassionati ci diciamo ma non mi interessa la riserva di carica così lunga invece ci sono persone alle quali come la signora avrebbero bisogno veramente di un orologio con una riserva di carica lunghissima così da lasciarlo nel cassetto due o tre giorni puoi andare lì e riprenderlo invece è costretta a comprarsi un orologio al quarzo perché questa cosa la disturba assai vedi stupendo un'altra cosa sarebbe uno dei orologi papabili prossimamente che vorrei prendermi bravo altro orologio che ti voglio far vedere che ha una storia e questo branding è scafograf 300 è un eberhard allora no brand scusami eberhard scafograf 300 e niente possedevo un scafograf 300 degli anni 70 l'avevo fatto restaurare e poi l'avevo messo in un cassetto perché secondo me era il brutto anatrocolo della collezione un giorno parlando con un collezionista mi dice guarda beh fai fammelo vedere insomma me l'ha preso con quello che ho realizzato beh faccio così prendo un altro scafografo ma prendo l'ultimo ed è questo qua bello bello poi l'ho regalato a mio figlio in occasione della sua laurea bravo e secondo me è un bellissimo orologio fatto molto bene è certo che lo è eberhard fa degli ottimi orologi non brand ring eberhard l'altro orologio che ho preso cos'è cos'è è questo in occasione del carnevale di galleggio è venuto a fare un giro e sono andato a trovare Giacomo in gioia dell'era bravo e in vetrina ho visto questo MC 72 ed avevo visto la tua recensione e niente ho guardato il numero di serie di questo orologio è il numero 72 per cui MC 72 il numero di serie 72 insomma l'ho preso bravo e poi sapere pensa un po' cosa si attaccano agli appassionati cioè vedi il numero di serie 72 non so no MC 72 e allora va preso e allora bisogna comprarlo e no se è così bisogna comprarlo per forza ti rendiamo conto di come siamo messi era stato che veniva fatto con le turbine degli F-104 poi avendo fatto i militari in aeronautica insomma l'ho preso perché è il suo perché ecco visto varie queste coincidenze l'ho preso bravo altro orologio che ho preso sempre da Giacomo è questo ZIN è un orologio che è un GMT che mi piace tantissimo è un po' pesante però è un orologio che non da molto sull'occhio lo puoi indossare tranquillamente e poi è fatto molto bene ebbè si vede che è un prodotto tedesco e gli orologi della ZIN mi piacciono tantissimo sono dei bellissimi orologi certo infatti penso che prossimamente ne arriverà qualche di un altro in collezione bravo altro orologio che ho preso è questo goffiamelo questo Zenith Delphi top allora questo orologio qua intanto è uno dei orologi che ha bracciali integrato è stato uno dei primi a avere i bracciali integrati movimento il primero fondello blu e poi l'ho preso anche perché ho visto avevo preso questo che me ne sono innamorato top perché per me è uno dei bei crono che ci sono attualmente in commercio secondo me anche più bello del Daytona e per cui ho detto se questo è stupendo questo è meraviglioso infatti sono due bellissimi orologi certo fondello a vista e basta niente è un orologio che lo puoi mettere in qualsiasi occasione ecco Davide ti ho fatto vedere la mia planetosha collezione rolex ti ho fatto vedere i nuovi arrivi spero di poterli incrementare ancora certo e niente continuo così io seguo continuamente le tue puntate bravo e grazie grazie a te e arrivederci a presto arrivederci a presto ciao 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 beh poi c'erano anche lì gli orologi che ci avevi fatto vedere l'altra volta sicuramente che ora io non ricordo rolex l'omega planetosha un tudor pelagos ce l'hai bei gli orologi complimenti e poi vedo che vai avanti che non è che ti tiri indietro quando c'è da comprare un orologino come si deve ti butti ora potevi anche risparmiarmi tutti quei quarzon all'inizio che vabbè però servono anche quelli no perché poi dopo dopo la tempesta viene il sereno no quindi dopo aver visto quel quelli quei batteriosi lì poi dopo sono arrivati gli orologi come si deve complimenti dai bravo aspetto ancora un video vai manda manda ciao davide ciao sono walter walter e ti volevo fare i complimenti per il canale ti seguo spessissimo grazie direi sempre sempre ti voglio illustrare la mia carrellata diciamo così di orologi carlo rapidissimo non mi soffermerò perché tanto sono più o meno tutti i orologi che noi conosciamo allora partiamo con un citizen citizen che ti si voglia che ti si voglia full loom promaster 200 metri eccolo qua eccolo qua via il primo via non vi un altro citizen promaster uguale in versione nera citizen sui usa verde verde didascalico niente da dire niente da dire ci siamo accorti orient kamasu continuiamo con un secco turtle versione batman batman silenzio eccolo qua silenzio eccolo qua basta bello dai ci piace andiamo avanti con un glissin combat sub 42 mm questo quello con la sfera ore simpatico a paletta invece sembra un po incompleto questo orologio parlo io a posto tuo perché sennò proseguiamo con secco baby marine master marine 200 metri 200 metri questo mi piace abbastanza questa ghiera blu petrolio verde petrolio metallizzata bravo molto bello molto bello è certo molto più indosso con piacere andiamo avanti con uno yema yema superman con questo dial sul violetto ha dei riflessi molto belli molto belli e perché l'hai comprato questo ok non c'è lo dice proseguiamo con un mido ocean star tributt tributt anche l'inglese su questo è un bello orologio ora a breve uscirà la mia video recensione del modello dell'ocean star gmt detto shark è veramente carino bello quello lì da tenere in considerazione è praticamente la cassa è simile a questa qua del dell'ocean star tributt da 40.5 però senza le spallette senza le spallette di protezione quindi la cassa è quella lì da 40.5 ma mi è sempre piaciuto l'ocean star tributt tributt specie con quel bracciale no lucido bello con tutti quei piccoli segmenti ti c'è messo il cinturino vabbè e quello lì invece l'ocean star gmt ce l'ha uguale però tutto satinato tanta tanta roba ci piace molto 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 comunque bello questo qua ora io capisco di essere concisi no ma concisi vuol dire esprimere un concetto con il minor numero di termini e con la massima razionalità possibile non stare in silenzio perché se te mi fai vedere un orologio e poi dici il nome il cognome e poi silenzio cosa stiamo a fare la sfilata di moda con le modelle che fanno arrivano in fondo fanno il giretto così può tornare indietro no quello che vogliamo sentire noi è la persona che ci racconta qualcosa degli orologi perché li ha scelti perché l'indossa cosa non gli piace cosa ti piace fammi dammi delle opinioni capito se te mi dai delle opinioni mi fai pensare le opinioni sono tue e ognuno ha le sue ma se te le dici mi fai pensare quindi io penso e mi faccio una mia opinione che poi può essere diversa dalla tua però se non c'è uno scambio di informazioni non si va da nessuna parte ho anche suoi il suo cintura bracciale a bracciale chicchi di riso da recchi di riso e ho messo questo per ora bravo ok ok passiamo a un doc sub 200 e questo è un orologio che mi piace molto veramente tanto tanto fatto bene un bracciale stupendo questo chichi di riso silenzio via e siccome mi piaceva tanto e mi piace l'ho preso anche per l'estate come anche per l'estate versione acqua marina quell'altra per l'inverno questo per l'estate perché capito col colore acqua marina e diventa un pochino più no chic per l'estate colorato come il cielo azzurro dell'estate invece quello bianco no è più invernale vedi che torniamo sul solito discorso di c'è le scuse per comprarsi gli orologi sono veramente infine garde sono bello molto bello passiamo adesso a un mido o multi for patrimonio sì 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 questo qua l'ho recensito anch'io è bello però questo è un orologio molto bello indosso con piacere con piacere diciamo che il mio dress watch però in mezzo a tanti diver ma sì un orologio elegante ok vediamo per finire abbiamo uno squale ottimo questo 15 21 colorazione nera ci piace lo avevo anche in azzurro bello azzurro ma l'ho venduto perché iniziavo ad avere troppi doppioni come due doxa e due squale anche il doxa mi sa che me ne priverò la colorazione acqua marina niente 15 21 molto bello bello da maglia milano ok e per finire un quarzon questo è una reliquia di il mio suocero trovato in un cassetto rimesso a posto g shock se poi secco e casio g shock del 1983 vintegione non è un plasticone perché al suo fondello a vite cassa interamente in acciaio ma bello trovato ovviamente il suo cinturino originale da deteriorato come la lunetta ho trovato tutto cinturino originale casio japan e lunetta aftermarket però bella morbida e niente e niente non sono amante dei quarzi però questo in collezione ci sta ci può stare certo te la provo bene ti ringrazio davide questo è tutto quando e se avrò qualche nuovo orologio ti aggiornerò va bene ancora a te love 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 niente dai tra qualche pausa qualche silenzio e poi alla fine degli orologini belli si sono visti è squale mido e doxa belli orologi belli orologi ora c'è alla fine ti senti si è tradito perché il doxa acqua marina e va a finire che lo vendo ma allora cosa hai comprato a fare un doppione cioè io sinceramente fatico a avere due orologi dello stesso modello due colori diversi fatico fatico come se mi comprassi adesso dico ora mi compro il professional omega professional con il quadrante bianco e col cinturino caociù però potrebbe essere anche l'idea ora che ci penso non è che sarebbe bruttissimo avere però insomma uno con questi soldi lì ci prende qualcosa che non ha mai avuto va un po a esplorare no a toccare a mangiare assaggiare poi nulla ti vieta di rivendere anche quello lì che che è preso perché poi dopo si fa rotazione to che lo facciamo cambio ma due orologi uguali te la sei andata a cercare secondo me comunque ti promuovo dai non per l'esposizione perché l'esposizione è da quattro quattro ma per gli orologi no tutti di che hanno un senso in collezione hanno un senso tranne il doppione ragazzi a me mi sembra di aver detto tutto io vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi siano piaciuti video il video e il presentatore e che insomma vi abbia un pochino fatto pensare fatto trovare qualche spunto per i nuovi orologi o qualcosa che non conoscevate vi ricordo gli appuntamenti fisiche come al solito sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love